La battaglia di Adrianopoli, combattuta in traccia nell'attuale Turchia europea il 9 agosto del 378, è una delle cosiddette battaglie decisive della storia. È una delle battaglie più famose dell'antichità, ma anche del Medioevo se preferite, perché segna proprio la cesura fra queste due epoche. Per convenzione facciamo cominciare quel giorno la lunga storia delle invasioni barbariche. I goti, che quel giorno sconfiggono l'imperatore Valente, sono i padri di quei goti che nel 410 saccheggeranno Roma al comando di Flavio Alarico, che ha questi due nomi, uno romano e uno barbaro, perché per i suoi, per i goti, è il Rex, il loro capo tribale, ma per i romani è un immigrato di successo che ha fatto carriera nell'esercito romano, è un generale dell'esercito romano, Magister Militum, pochi anni prima è stato comandante di tutte le truppe romane nei Balcani. Ecco, queste sono le conseguenze della battaglia di Adrianopoli. L'ingresso in massa di un popolo barbaro nell'impero, la penetrazione dei suoi capi ai livelli superiori dello Stato, dell'amministrazione dell'esercito romano e poi alla lunga la nascita del primo regno romano barbarico, che quegli stessi goti fonderanno nel sud della Gallia e in Spagna. Insomma, questa battaglia veramente simboleggia la fine di un'epoca e l'inizio di un'epoca nuova. E la cosa più singolare è che questa battaglia che segna l'inizio delle invasioni barbariche non è in realtà il risultato di un'invasione, perché quei goti che quel giorno sfideranno e sconfiggeranno l'esercito imperiale non erano entrati su territorio romano da invasori, ma da immigrati, col consenso del governo imperiale. Era cominciato tutto due anni prima, nel 376, quando gran parte di questo popolo, i goti che viveva al di là del Danubio, si affaccia appunto al grande fiume che segna all'epoca la frontiera dell'impero romano d'Oriente. I goti erano un popolo di lingua germanica, questo lo sappiamo noi che studiamo le loro lingue, ma i romani mica lo sapevano questo naturalmente. Per loro i goti non erano germani, non avevano nessuna idea dell'affinità fra la loro lingua e quella dei barbari della Germania come i franchi o gli alamanni. Per i romani i goti erano un popolo delle steppe, le immense steppe che si estendono al di là del Danubio, nell'attuale Romania e Ucraina. Questi popoli delle steppe come i sarmati per esempio, gli sciti, ecco erano tutti popoli che agli occhi dei romani si assomigliavano, non erano proprio nomadi, ma era gente che comunque si spostava facilmente, era gente che viveva coltivando la terra ma anche allevando bestiame, quindi con una certa mobilità, una certa abitudine all'uso del cavallo. Questi goti noi sappiamo qualcosa di più grazie anche agli archeologi naturalmente, gli archeologi sovietici in passato e i rumeni hanno ritrovato le loro tracce appunto, i loro villaggi tra la Romania e l'Ucraina attuale e confermano erano popoli relativamente primitivi, di contadini, di allevatori, di pastori armati, bellicosi, guerrieri. I romani li conoscevano bene, fra i tanti barbari con cui avevano a che fare, anzi erano quelli che forse conoscevano meglio perché i goti insomma tante volte avevano dato fastidio sul Danubio e tante volte gli imperatori romani avevano lanciato spedizioni punitive nel loro territorio per rimetterli al loro posto, saccheggiando, bruciando i loro villaggi, portando via le donne prigioniere, il bestiame. Tante volte i goti avevano implorato pietà ed erano stati perdonati e poi nei periodi di pace invece i loro capi servivano l'imperatore come mercenari, quando c'era bisogno di uomini era sempre facile pagando bene in oro ottenere che qualche capo goto venisse a combattere insieme ai romani con i giovanotti della sua tribù. Era gente conosciuta, non poi così barbari in fondo ormai, diciamo in via di civilizzazione, ecco, e oltretutto stavano anche diventando cristiani. All'epoca di cui parliamo l'impero romano è cristiano ormai da tanto tempo. Sono passati 50 anni dal tempo di Costantino e dunque l'impero romano è cristiano e anche fra i goti ci sono missionari che stanno diffondendo il cristianesimo. Anzi, i goti hanno fatto una cosa che nessun altro popolo barbaro all'epoca era mai riuscito a fare. Hanno inventato un alfabeto per scrivere la loro lingua e hanno tradotto in gotico la Bibbia. E noi abbiamo dei pezzi di questo testo, per quello conosciamo bene la lingua dei goti. Insomma, sono barbari, sì, ma barbari sono i nostri barbari, potremmo dire, ecco, gente che conosciamo bene e che non ci fa troppa paura. Ma questi goti che nel 376 si presentano all'improvviso sulla frontiera dell'impero romano hanno invece paura di altri barbari, molto più barbari e molto più cattivi di loro. Raccontano ai romani che hanno dovuto abbandonare la loro patria perché sono stati aggrediti. E' spuntato un altro popolo dall'Asia, nomadi veri questi, gente che vive sempre sui carri e sui cavalli, che si sposta continuamente, guerrieri ferocissimi. Si chiamano unni. Su questi unni i generali romani, andando a vedere in biblioteca, scoprono che non ci sono molte informazioni, ma quelle poche sono spiacevoli. Sono effettivamente gente senza patria, gente che nasce sui carri, muore sui carri. Una cosa che ai romani fa veramente orrore, perché per i romani invece il concetto del luogo d'origine di una persona è fondamentale per definire l'identità. E poi, poi niente, ci sono vecchi aneddoti, questi unni si nutrono di bistecche fatte frollare sotto la sella del cavallo. Di più non si sa, ma i goti garantiscono. Gli unni sono gente terribile e noi non siamo riusciti a resistere. Perciò chiediamo di essere ammessi su territorio romano. Ora bisogna avere ben chiaro che questa richiesta dei goti non è una richiesta stravagante, perché da moltissimo tempo i romani erano abituati a concedere a singole popolazioni barbare l'ingresso sul territorio romano. La frontiera fortificata dell'impero, il Limes, non era una muraglia ininterrotta costruita per non fare entrare nessuno. Era un insieme di posti di guardia concepiti per monitorare i passaggi e le comunicazioni. I romani facevano entrare quando gli faceva comodo. I romani facevano entrare perché almeno dal tempo di Marco Aurelio nell'impero si scatenavano spesso epidemie devastanti, di peste, dicevano loro. In realtà pare che la grande epidemia che devasta l'impero al tempo di Marco Aurelio fosse piuttosto una versione del vaiolo. In ogni caso sono epidemie devastanti, disastrose, svuotano le case, svuotano i campi, svuotano le caserme. Perciò i romani hanno spessissimo bisogno di gente. E capita continuamente che gruppi di barbari si presentino alla frontiera raccontando che appunto la fame o la guerra li hanno costretti a fuggire e a chiedere asilo. E i romani, se in quel momento hanno bisogno di gente, fanno entrare. Fanno entrare ovviamente con regole severissime. I barbari che vengono ammessi nell'impero rinunciano a qualunque diritto. L'unica cosa che conservano è la libertà personale, non possono essere fatti schiavi. Ma per il resto obbediscono e basta. E il governo romano dice a ciascuno cosa deve fare. Le famiglie vengono mandate a lavorare sui latifondi dei grandi proprietari terrieri e i giovanotti vengono arruolati nell'esercito. Da generazioni ormai l'impero romano assorbe immigrati e progressivamente li assimila. Perché una volta che sono diventati contadini, stabili, residenti sulle terre dei senatori romani o che sono diventati soldati e poi ufficiali dell'esercito, questi barbari via via si assimilano e diventano anche loro cittadini romani. Dunque quello che chiedono i goti non è stravagante. C'è solo un problema e che stavolta sembrano davvero tanti. Nessuno sa quanti sono, non lo sapevano i romani allora e non lo sappiamo noi oggi, ma sono davvero tanti e i generali romani che comandano sul Danubio non si prendono la responsabilità di farli entrare. Bisogna chiedere all'imperatore. L'imperatore si chiama Valente, è un imperatore poco popolare perché l'impero romano in quel momento è straziato da litigi religiosi fra le diverse confessioni cristiane. Ci sono i cattolici, che sono quelli che poi prevarranno alla lunga, e ci sono gli ariani che pensano che il figlio abbia una dignità inferiore rispetto al padre, che forse Gesù non era Dio ma era soltanto uomo. Gli ariani sono molto diffusi, e in quel momento anche l'imperatore è ariano, l'imperatore valente è ariano e litiga volentieri col clero cattolico, imprigiona dissidenti, non è amato. L'imperatore valente quando i goti arrivano alla sua frontiera è lontanissimo da lì, è all'altra frontiera dell'impero d'oriente, in Mesopotamia, e si prepara a fare la guerra contro la Persia, la guerra contro l'Iran, vecchia e nuova, eterna ossessione degli imperi occidentali. E dunque un messaggero arriva dopo settimane a cavallo da Valente, sono duemila chilometri dal Danubio, dalla Mesopotamia. Un messaggero arriva dall'imperatore valente a raccontare che un'enorme folla di goti si è presentata alla frontiera chiedendo di poter entrare. E l'imperatore valente riunisce i suoi ministri, e i ministri gli dicono che è la fortuna dell'imperatore che li manda. Notiamo, loro sono tutti cristiani ormai, qualche dignitario è ancora pagano e nessuno gli dice niente, ma la maggioranza sono cristiani, ufficialmente è un impero cristiano, ma hanno ancora tutti in mente la dea fortuna, come i loro antenati pagani, non dicono la provvidenza, è la fortuna dell'imperatore che manda questi goti, perché noi abbiamo bisogno di uomini, per la guerra contro l'Iran. E dunque Valente manda gli ordini alla frontiera del Danubio, questi che arrivano sono amici, bisogna farli entrare. Quando la notizia arriva alla frontiera la situazione è già molto tesa. Dall'altra parte del Danubio c'è questa marea di profughi che hanno abbandonato da tempo ormai le loro case, che sono lì con i loro pochi beni sui carri, con i bambini, le donne, i vecchi, il bestiame, tutto quello che hanno, col terrore di sentire dietro di sé gli zoccoli dei cavalli degli unni. Tutta questa marea di profughi sull'altra riva del Danubio aspetta ansiosamente il permesso di passare. Ogni tanto qualche testa calda ha provato a passare lo stesso, senza autorizzazione, ma le truppe romane fanno buona guardia. Ci sono stati dei tafferugli, ci è scappato il morto. Ma adesso arriva l'ordine di Valente. Si fanno entrare. E anzi, un cronista che racconta queste cose e le racconta dopo, quando tutto è già andato a finire molto male e quindi è furibondo per come è stata gestita questa emergenza. Questo cronista è un appio, racconta quando è arrivata la notizia che questi erano amici, nuovi sudditi dell'imperatore e che bisognava farli entrare. E beh, quegli ufficiali che prima comandavano sulla frontiera e che avevano impedito di passare e avevano ammazzato quelli che cercavano di passare illegalmente, beh, quegli ufficiali sono finiti sotto processo per abuso d'ufficio. Ecco. E invece adesso ci si è dati un grande affare, dice un appio, ma lo dice anche l'altro cronista che racconta queste cose, Ammiano Marcellino. Anche lui scrive quando ormai è finito tutto male. Tutti e due quindi lo dicono. Ci siamo dati noi romani un grande affare per far entrare quelli che dovevano distruggere l'impero romano. Bisogna traghettarli questi profughi. Sul Danubio non c'è un ponte. Ne aveva costruito uno Costantino molto tempo prima, proprio per andare a scocciare i goti, ma il ponte è crollato da tempo e nessuno è mai riuscito a ricostruirlo. Bisogna traghettarli con barche, con zattere. Si comincia questa enorme operazione, far passare... quanti saranno stati? Proviamo a zardare una cifra. 50.000. Far passare tutta questa gente. Sul Danubio in piena. Non sappiamo se sia primavera o autunno, siamo talmente male informati sui dettagli, però sappiamo che piove e il fiume in piena, gonfio. Quest'operazione di traghetto comincia subito male. Le zattere si ribaltano, c'è gente che affoga, le famiglie si perdono. Arriva a terra una marea di gente fradicia, terrorizzata, bambini rimasti soli. Dobbiamo pensare che quella è una popolazione preindustriale, pochi vecchi e una marea di bambini. Ecco, nel caos più totale saltano tutte le regole. Normalmente, quando i barbari vengono fatti entrare, ci sono delle scrivanie con dei segretari che chiedono il nome a tutti e annotano e così possiamo sapere quanta gente entra. Ma questo trasbordo è fatto in modo così caotico che si rinuncia a prendere i nomi e a contarli. Poi le regole stabilivano che i guerrieri entrando devono consegnare le armi, ma anche qui nessuno riesce a controllarlo veramente. E quando una sentinella romana scopre un guerriero che ha ancora le armi, basta un regalino e lo lascia passare. E poi ci sono appunto tutti questi bambini che si perdono, che non si sa più di chi sono. E dice uno dei testimoni, non c'è un ufficiale romano in zona che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino, perché c'è la schiavitù nell'impero romano naturalmente e se un bambino è rimasto solo te lo prendi e basta. E intanto si continua a traghettare tutta questa gente, ce n'è sempre di più e misteriosamente sull'altra riva non è che la folla stia diminuendo. Anzi, dopo un po' i generali romani cominciano a preoccuparsi. Cosa sta succedendo? Si informano. Quello che sta succedendo è che siccome i romani hanno aperto la frontiera e fanno passare, la voce si è sparsa e in tutta la regione al di là del Danubio, in tutto il barbaricum, come dicono i romani, altra gente che prima non aveva pensato di andarsene, adesso vuol cogliere l'occasione. C'è la frontiera aperta. Capite come se si spargesse all'improvviso in Messico la voce che Trump ha aperto il muro. Milioni di persone si trebbero in movimento. E lì, su scala minore, è quello che succede. I generali romani si spaventano. Abbiamo già fatto passare un'enorme quantità di gente e ce n'è ancora almeno altrettanta. Basta. Decidono di interrompere le operazioni. Chi c'è, c'è. Gli altri restano fuori. Quelli che sono entrati adesso, secondo le regole, bisognerebbe farli affluire verso l'interno. Nell'impero romano ci sono appositi uffici che hanno il compito di gestire la sistemazione degli immigrati, dei profughi, dei deportati. Dico deportati perché a volte i romani quando hanno bisogno di mano d'opera e non c'è nessun barbaro che vuole entrare, se li vanno a prendere. Ma poi le regole sono le stesse per tutti. Gli uffici li sistemano. I latifondisti che hanno bisogno di mano d'opera fanno richiesta. I reparti militari che hanno bisogno di reclute fanno richiesta. Ma per adesso gli uffici non sono pronti, non si è fatto niente. Perciò tutta questa folla di profughi viene trattenuta lì. Appena passato il fiume nasce un enorme campo profughi dove tutta questa gente rimane ad aspettare. E bisogna dargli da mangiare, naturalmente. A questo si è provveduto. Il governo ha stanziato i fondi. L'esercito deve mantenere i profughi goti con razioni militari pagate regolarmente dal tesoro. Ma qui cominciamo a capire che cosa vuol dire la profondità della corruzione nell'apparato amministrativo dell'impero romano. Non ci sono controlli. Questa enorme operazione umanitaria viene svolta su una lontana frontiera. Oggi ci sarebbero la Croce Rossa, la televisione. Invece no, non c'è nulla. I generali sulla frontiera fanno quello che vogliono e capiscono subito che l'affare è enorme. Il governo ha pagato le razioni da distribuire quotidianamente a tutta questa gente. Ma loro invece le fanno pagare. I goti per essere nutriti devono pagare. E i soldi finiscono in tasca i generali. I goti pagano e si sono tutti portati dietro da casa, come dire, l'oro, i gioielli delle donne, gli oggetti preziosi. Uno dei cronisti di cui parlavamo, che è un pagano e che parla male dei cristiani, dice anche che si sono portati da casa i goti, gli idoli dei loro dèi, perché erano ancora tutti pagani anche loro, anche se facevano finta, dice, di essere cristiani. Ecco, in realtà noi sappiamo che i goti appunto in gran parte ormai erano davvero cristiani, hanno con sé i loro preti. Ma questo cronista pagano e un apio dice no, no, era tutta una frottola. Era per ingannare meglio i romani, perché, dice un apio, da quando comandano i cristiani, da noi si crede a tutto. Basta che uno arrivi e dica sono cristiano e lo accogliamo a braccia aperte. Insomma, i goti hanno tanto con sé, ma pian piano spendono e vengono tenuti lì finché non hanno speso tutto. Anziché farli affluire nell'interno e metterli a lavorare, si tengono lì perché l'affare è troppo grosso. I generali si arricchiscono e quando i goti non hanno più niente con cui pagare il cibo, cominciano a fare quello che si fa nelle società dove c'è la schiavitù, vendere i bambini. E, dicono i cronisti, arrivano lì da tutta la regione i mercanti di schiavi, perché sanno che lì c'è da fare grossi affari. Allora possiamo immaginare qual è il clima fra questi profughi che sono entrati, con i loro capi fra l'altro, quelli che i romani chiamano i loro principes, sono entrati negoziando con le autorità romane, credendo di entrare per andare a lavorare e adesso sono tenuti lì e sfruttati fino all'osso. Dopo un po' il clima è tale che i generali romani al comando si spaventano e decidono che è ora di smantellare il campo profughi e far affluire davvero questa gente verso l'interno. Così un bel giorno li mettono in marcia, incolonnati, scortati da tutte le truppe disponibili. E la colonna si mette in marcia verso l'interno della traccia e, ripeto, tutte le truppe disponibili la accompagnano. E non si pensa a lasciare forze sufficienti per difendere la frontiera. Ma dall'altra parte ci sono ancora tutti quelli che sono arrivati all'ultimo minuto e non sono riusciti a passare e sono rimasti lì ad aspettare per vedere cosa succedeva. E appena le forze romane si ritirano dalla frontiera, molti goti cominciano a passare clandestinamente, senza autorizzazione. E intanto la colonna affluisce verso l'interno e poi succede la catastrofe. Vicino la città di Marcianopoli dove i goti speravano di essere accolti e sfamati e invece la città rifiuta di farli entrare perché i cittadini sono terrorizzati da questa massa di profughi barbari e anche dai soldati che li scortano perché nell'impero romano i civili in genere non hanno buoni rapporti con i soldati, anzi i soldati sono violenti, prepotenti, privilegiati. Non entra nessuno insomma tranne i generali romani e i principi goti, gli altri tutti fuori. A questo punto la tensione si taglia col coltello al punto che ci raccontano i nostri testimoni, chissà se sarà vero poi, che i generali romani sono così spaventati che entrano in città con i capi goti e li invitano a banchetto e decidono di farli ubriacare e farli fuori tutti. Perché in questo modo i goti rimasti senza capi saranno più facilmente manovrabili e invece non ci riescono. Il banchetto è ancora in corso e i capi dei goti non si sono ancora ubriacati. Quando quelli rimasti fuori cominciano a litigare con i soldati di scorta e li aggrediscono e tirano fuori le armi nascoste e la corta romana viene sterminata e le armi, le armature prese dai goti e i capi dei goti escono dalla città gridando tradimento. I romani ci hanno traditi, non hanno mantenuto i patti, ma adesso noi siamo dentro e facciamo noi quello che vogliamo. I goti cominciano a saccheggiare il paese, il fumo degli incendi si vede fin dalle mura della capitale, Costantinopoli. E a questo punto l'imperatore Valente che è sempre alla frontiera con la Persia che prepara la guerra deve decidere cosa fare e all'inizio sottovaluta il problema. All'inizio Valente pensa va bene sono quattro straccioni, manderò un generale con qualche reparto e li faranno fuori e invece i goti sconfiggono uno dopo l'altro tutti i generali mandati contro di loro e intanto saccheggiano su vasta scala. Il saccheggio della traccia diventa un'impresa organizzata su scala industriale con enormi accampamenti dove i goti ammassano il bottino e poi convogli che lo portano al di là del Danubio nei loro territori d'origine. E dall'altra parte del Danubio arrivano altre tribù barbare per partecipare al saccheggio. Arrivano altri goti, arrivano gli alani, arrivano addirittura gli unni, che erano il motivo per cui all'inizio i goti erano scappati, ma adesso arrivano proponendo di allearsi per continuare a saccheggiare insieme l'impero romano. E a questo punto l'imperatore Valente deve muoversi in persona per andare a risolvere il problema. Rinuncia alla guerra contro la Persia. Con il grosso del suo esercito si rifà a piedi i duemila chilometri fino alla traccia. Arriva a Costantinopoli, la sua capitale. A Costantinopoli la tensione è altissima. L'imperatore era già poco amato. Adesso poi il popolo è quasi in tumulto. Ai giochi del circo Valente viene fischiato dalla folla. E per un imperatore romano questo è un pessimo presagio. Valente è impopolare, lo sappiamo anche per motivi religiosi. Ci sono dei monaci cattolici che predicano contro di lui. Valente li ha fatti arrestare. Prima di partire con l'esercito da Costantinopoli per dar la caccia ai goti, Valente va a trovare uno di questi monaci che parlavano contro di lui e gli dice quando poi torno facciamo i conti. E il monaco gli dice se non smetti di perseguitare i cattolici non farai ritorno. E Valente esce con l'esercito, va a dar la caccia ai goti e li trova. I goti si spostano anche loro con i loro carri, carichi di bottino, con gli schiavi che hanno catturato. Sono al tempo stesso un esercito e un popolo. Si spostano lentamente di tappa in tappa. L'esercito li insegue, li trova. I goti sono costretti a schierarsi. Siamo nella pianura fuori dalla città di Adrianopoli, oggi Edirne, appunto nella Turchia europea. I goti si schierano, pronti a dare battaglia. Hanno un enorme convoglio di carri, li dispongono in cerchio, come faranno poi tanto tempo dopo i pionieri nel West, quando sono attaccati dagli indiani. Ammassano le loro donne, i loro bambini all'interno di questo cerchio e i guerrieri si schierano fuori. Dall'altra parte è schierato l'esercito romano. Sbaglieremmo molto se immaginassimo da una parte un'orda di barbari con gli elmi cornuti e dall'altra un esercito di legionari ancora armati come al tempo di Giulio Cesare. Non è così. I legionari romani ormai sono armati in modo molto diverso rispetto ai vecchi tempi. Tempi cambiano, le tecnologie militari si evolvono sempre. Un legionario romano di quest'epoca porta una cotta di maglia e un elmo col nasale che a guardarli a noi evocherebbero piuttosto il Medioevo. E non combatte più col gladio, la spada corta dei tempi di Giulio Cesare e delle guerre galliche, combatte con la lancia. È molto diverso nell'aspetto e nel modo di combattere. E un soldato romano è molto diverso anche per un altro motivo, che moltissimi di questi soldati sono immigrati, sono barbari. È stato calcolato che almeno metà dei generali romani di quest'epoca erano barbari di origine, ma assimilati. Perché appunto l'impero romano è un enorme melting pot e l'esercito è sempre stato la struttura che più di tutte serviva per assimilare barbari e fargli fare carriera nell'impero. Dunque questo esercito di soldati romani in cotta di maglia, elmo col nasale, lancia in pugno, sembrano dei guerrieri medievali, ripeto, e molti di loro come origine sono barbari, ma sono comunque l'esercito romano, l'esercito dell'imperatore. E dall'altra parte i goti non portano certo gli elmi cornuti, che la tradizione accosta ai barbari e che non sono mai esistiti, invece a quanto pare ci dicono gli archeologi. Anche loro sono armati allo stesso modo, perché le tecnologie militari sono la prima cosa che si copia. E poi molti di loro sono armati proprio con le armi romane, prese nelle vittorie ormai conseguite fino a quel momento. Quindi sono due eserciti molto simili come aspetto e fatti in parte anche da uomini che hanno le stesse origini, ma sono schierati lì l'uno davanti all'altro. E a questo punto succede una cosa surreale. Lì, nei campi fuori Adrianopoli, in quel pomeriggio di agosto, i goti mandano una delegazione a cercare l'imperatore valente per dirgli, ma dopo tutto potremmo ancora metterci d'accordo. In fondo è colpa vostra quello che è successo. Ci avevate promesso mari e monti, non avete mantenuto niente. Ma noi siamo ancora pronti a mantenere i patti. Siamo ancora pronti a diventare fedeli sudditi e mercenari valorosi dell'imperatore. Arriva questa delegazione dei goti, comprende anche almeno un prete cristiano. Ariano, com'è Ariano Valente. E Valente accetta di discutere, accetta di negoziare, perché anche a lui sembra uno spreco ammazzarli tutti, questi goti, quando c'è tanto bisogno di gente nell'impero. E mentre stanno negoziando, la battaglia comincia da sola. La battaglia comincia da sola perché lì sotto il sole i due schieramenti a qualche centinaio di metri l'uno dall'altro e a quell'epoca, a quella distanza, non ti puoi far del male. Naturalmente non ci sono le armi da fuoco, neanche gli archi tirano così lontano. Però si comincia a insultarsi, a gridare, a fare gestacci e magari qualcuno viene avanti e tira una pietra, un giavellotto, una freccia e ci si avvicina continuando a insultarsi. E poi a un certo punto ti tirano fuori appunto le armi e cominciano a scontrarsi. La battaglia di Adrianopoli comincia da sola, senza che nessuno l'abbia voluto. E l'esercito romano viene sotto. Viene sotto con la sua fanteria che spinge e che è superiore e i goti alla lunga non ce la fanno, cedono, arretrano. Si potrebbe pensare di schiacciarli contro la loro barricata di carri. E la cavalleria romana sui fianchi viene anche sotto. I romani hanno molta cavalleria, una volta non ne avevano, erano tutte truppe a piedi. La cavalleria era pochissima nell'esercito con cui, che so, Giulio Cesare ha conquistato la Gallia. Ma adesso molte cose sono cambiate. L'esercito romano è abituato a combattere in Mesopotamia contro i parti e i persiani, che sono popoli cavalieri, oltre il Danubio, contro i Sarmati, gli Sciti, altri cavalieri. L'esercito romano è pieno di cavalleria, reclutata in gran parte anche fuori dai confini. Cavalleria araba, cavalleria siriana. Questa cavalleria spinge anche sotto, oppure si allontana sperando di accerchiare il nemico, prenderlo alle spalle. E intanto la fanteria romana preme e sta per stritolare i goti contro la barricata dei carri. E l'esercito dei goti non ha cavalleria in campo. È molto strano, perché in realtà anche loro sono popoli cavalieri e poi con loro ci sono gli alani, gli unni, che sono tutta cavalleria. Dov'è questa cavalleria? Ebbè questa cavalleria si era allontanata al mattino, senza immaginare che l'esercito romano stava arrivando e che ci sarebbe stata una battaglia. Questa cavalleria, gli unni specialmente, si era allontanata in cerca di foraggio, in cerca di bottino e a un certo punto ritorna sul campo di battaglia. Ritorna e spunta sul campo di battaglia, sul fianco e alle spalle dei romani che non se l'aspettano. E questa cavalleria carica i romani, li prende alle spalle e li schiaccia contro la fanteria dei goti. L'esercito romano va nel panico, tutti cercano di scappare, inciampano gli uni sugli altri. Chi continua a combattere e lo fa col nemico davanti, col nemico dietro, vengono circondati e vengono annientati. La battaglia di Adrianopoli è stata vinta in modo totalmente inaspettato dai barbari. L'imperatore Valente sparisce e nessuno sa che fine abbia fatto. I cattolici racconteranno poi che è stato punito da Dio, che si è rifugiato in una casa e quella casa i barbari l'hanno incendiata e l'imperatore è morto fra le fiamme. Quello che è certo è che non si sa che fine abbia fatto. L'impero d'Oriente non ha più un esercito e non ha più un imperatore ed è pieno di barbari che hanno vinto, trionfato e fanno quello che vogliono. Negli anni successivi il nuovo imperatore d'Oriente Teodosio avrà il compito spiacevolissimo di provare a rimettere in piedi le cose. Teodosio riesce a reclutare un nuovo esercito con metodi drastici, costringendo intere categorie della popolazione a prestare servizio. Teodosio mette fine ai litigi eterni fra i cristiani, fra cattolici e ariani, con l'edito di Tessalonica del 380, sono passati solo due anni da Adrianopoli, in cui ordina che d'ora in poi tutti i sudditi dell'impero romano devono essere cristiani, cattolici e che non sarà più tollerato il dissenso. Anche questa è una conseguenza colossale della battaglia di Adrianopoli. Ma dal punto di vista politico la conseguenza colossale consiste in questo, che Teodosio riprende la guerra contro i goti, riesce a sconfiggere alcuni capi, a sterminare alcune bande, ma con i capi più importanti l'unico modo per mettere fine a questa situazione è di prendere degli accordi con loro. E Teodosio stringe degli accordi con i capi dei goti. Ma i capi dei goti adesso negoziano da una posizione di forza. E non si parla più di distribuire le famiglie come coloni dei latifondisti romani o di distribuire i giovanotti nelle caserme a diventare soldati romani. No, no. Adesso i goti pretendono e ottengono di poter vivere dentro l'impero senza mescolarsi, senza assimilarsi, senza dover lavorare. Ottengono di poter vivere dentro l'impero, su dei territori che gli vengono assegnati, dove potranno ricevere degli stipendi, riscuotere delle imposte. E loro in cambio si impegnano a combattere per l'imperatore, combatteranno fedelmente per l'imperatore, finché l'imperatore paga. Ma continueranno a essere i goti non diventeranno cittadini romani. Continueranno a vivere secondo le loro leggi e a obbedire ai loro capi. A partire da quel momento l'impero romano ha dentro di sé questo popolo barbaro, la cui prospettiva non è di assimilarsi, ma di sfruttare il più possibile la debolezza dell'impero per arricchirsi. Sono loro che una generazione dopo faranno il sacco di Roma con Alarico e sono loro che ancora più tardi fonderanno il primo dei regni romano barbarici.